Amico mio, se ti sei imbattuto in questo video è perché desideri il cambiamento economico. Ma di che? Se ti sei imbattuto in questo video è perché sei disperato e a bocchia qualsiasi cazzata. Se seguirai i 5 segreti del marketing che nessuno ti dirà oltre a me, potrai guadagnare fino a 20.000 euro al mese nel primo anno di attività. Sì, sì. E poi ti trasformi in un razzo missile con circuiti di mille valvoli. Perché ho scelto proprio te per condividere queste fantastiche rivelazioni che mi hanno cambiato la vita? Ma è chiaro, perché la tua ricchezza crea altra ricchezza. Ma perché se c'è da li sordi a noi, noi diventamo ricchi con li sordi tua. E più persone conosceranno queste tecniche? E più diventamo ricchi noi. Ma la cosa fantastica è che potrai avere tutto il tempo libero che desideri. Perché potrai guadagnare mentre stai dormendo, amico mio. Così tu mentre dormi io mi tenchi a petto. Ad ogni tuo amico che farai entrare nel mio network ti raddoppierai guadagni. Dai, ti bastano soli 5 amici. Altri 5 coglioni come te. E che c'è vuoi? È pieno dei disperati. Ma la cosa fantastica, amico mio, è che l'iscrizione è gratis. Ma è la cancellazione che ha pagamento.